Le drammatiche immagini di un pullman in fiamme rivelano la gravità dell'incidente in cui hanno perso la vita 26 persone a Taiwan. Le vittime erano turisti cinesi in viaggio verso il principale aeroporto di Taipei per rientrare nel loro paese dopo una visita di otto giorni. Il fuoco si sarebbe sviluppato prima che il mezzo sbandasse finendo contro una barriera di sicurezza dell'autostrada e si sarebbe propagato velocemente assieme a una coltre di fumo nera. A bordo c'erano il conducente e una guardia turistica taiwanesi e 24 passeggeri, 16 donne e 8 uomini di Dalian, città del nord-est della Cina. Nessuno è riuscito a fuggire dal veicolo e non ci sono superstiti. Gli inquirenti indagano sull'accaduto.